Musica Musica Vuoi conoscere le opportunità del mondo del lavoro? Vuoi vedere quali sono i corsi di formazione? Job Training Days ti aspetta! Job Training Days è un evento dedicato a noi e al nostro futuro, dove potrai trovare le diverse opportunità che ci offre la nostra regione e approfittarne. Quindi è bello lanciarsi ma sapere che c'è qualcuno che ci può dare una mano. Non mollare e provarci. Mi sono laureata in traduzione e interpretariato e dopo la mia laurea sono andata al centro per l'impiego per cercare lavoro e mi hanno offerto questo tirocinio in un'agenzia di viaggi. Non è stato facile ma ce l'ho fatta. Ho formazione, puoi trovare lavoro. Grazie a questa esperienza ho migliorato i rapporti con i clienti, quindi adesso so gestire meglio la clientela e anche con i colleghi ho un bel rapporto e quindi mi trovo bene e riesco a lavorare in gruppo e nell'ambito della panetteria. Tutti gli enti di formazione, l'agenzia per il lavoro, i centri per l'impiego e le istituzioni vi aspettano al Job Training Day il 7, 8, 9 ottobre 2019 al Polo Culturale Brambilla Veres per offrire opportunità di inserimento e reinserimento all'interno del mondo del lavoro regionale. Giornale